Sposami. Dal 16 al 24 gennaio alle Ciminiere di Catania. Sposami. Il più grande salone nazionale del matrimonio. 200 stand, eventi, premi e spettacolari sfilate per lo sposo e la sposa. Sposami. Dal 16 al 24 gennaio. Dal lunedì a venerdì 16.21. Sabato e domenica 10.22. Sposami. Alle Ciminiere di Catania. È un'organizzazione expo. Ben trovati. Nuo appuntamento con la nostra informazione. Partiamo dalla cronaca e da Catania dove si trova rinchiusa da qualche giorno Veronica Panarello, la madre di Loris Stival, la donna accusata dell'omicidio del figlio, ed è stata disposta alla perizia psichiatrica. Per tutti gli aggiornamenti sul caso ci colleghiamo con la redazione di Blog Sicilia dove c'è Francesca Aglieri. Sì, Francesco, da sabato mattina Veronica Panarello, la madre del piccolo Loris, è rinchiusa nel carcere catanese di Piazza Lanza. Oggi è il giorno della perizia psichiatrica e a riferirci delle condizioni di salute della sua assistita è stato l'avvocato Francesco Villardita. Villardita ci ha detto che Veronica è provata, è sedata, ma che fisicamente sta bene. Ci ha anche detto che la sua assistita è guardata a vista nel carcere catanese, così come lo era nella struttura penitenziaria di Barcellona Pozzo di Gotto. Il giudice è disposto per Veronica Panarello che rimarrà in carcere a Catania per tutto il tempo della durata della perizia e quindi per i prossimi 60 giorni. Saranno i peniti nominati a decidere il numero delle sedute e l'elenco con gli incontri. Si sono svolti a Militello in Val di Catania i funerali dell'appuntato Gianluca Sciannaca. Il militare è morto durante il servizio sabato scorso. Erano presenti i vertici dell'arma. Sentiamo. Presenti i vertici dell'arma dei carabinieri nella chiesa di San Benedetto di Militello Val di Catania i funerali dell'appuntato Gianluca Sciannaca, morto nel tentativo di sventare il furto in un appartamento a Ramacca. Sciannaca, 41 anni e era originario di Militello Val di Catania, è ricordato da colleghi e amici per il particolare attaccamento all'istituzione e per il non comune senso del dovere per la sua spontaneità, semplicità e solidarità. Lascia agli anziani genitori un fratello e una sorella. La tragedia è avvenuta sabato pomeriggio a Ramacca mentre l'appuntato con altri colleghi erano in servizio e stavano facendo un sopralluogo in un'abitazione. Sciannaca è precipitato all'interno della tromba della scala di una palazzina di quattro piani in via Giusti dove era intervenuto per un tentativo di furto in un appartamento. Prima lo hanno investito e poi hanno sparato ad un braccio con un fucile. È successo a Biancavilla ieri sera. Giuseppe Amoroso, pregiudicato di 44 anni, è riuscito a salvarsi e adesso è ricoverato in ospedale. Un avvertimento oppure un assassino fallito? Sono ancora molto sfumati i contorni della vicenda. I carabinieri della compagnia di Paternò stanno indagando non escludendo alcuna pista e tentando di raccogliere quanti più indizi utili a chiudere il cerchio. Ma il ferimento al momento rimane in giallo. Centinaia di milioni di euro sono stati bloccati dal Tar. Sono i fondi per il biologico. Tantissimi imprenditori rischiano di perdere questi fondi, di restituire questi fondi e altre tanti erano stati esclusi da questo tipo di finanziamento. Ci dice tutto Antonio Spitaleri. 320 milioni di euro buttati al vento per colpa di un bando poco trasparente e fondi distribuiti a pioggia. Un bando europeo sulle coltivazioni biologiche è annullato dal Tar a seguito del ricorso di 50 delle 1700 aziende escluse dai finanziamenti dopo aver investito cifre considerevoli, come spiega Massimo Cavaleri che con Salvatore Cittadino difende l'Unione Allevatori Sicilia. Di fatto il ricorso è stato proposto allo scopo di far recuperare le perdite che gli agricoltori hanno subito per il semplice fatto della partecipazione al bando e che a causa di criteri poco trasparenti ed irrazionali ha comportato la perdita di questi contributi comunitari. E se da un lato il neoassessore all'agricoltura Antonello Cracolici garantisce che è ancora possibile appellarsi al Consiglio di Giustizia Amministrativa e salvare i fondi, l'avvocato cittadino frena. Io credo che il ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa non possa essere fatto perché la sendenza per noi è passata in giudicato. È passata in giudicato nella parte in cui ha annullato tutto il bando, tutta la graduatoria e tutta la procedura concorsoale. Hanno protestato stamani a Catania, lungo i binari della ferrovia Circo Metnea, i lavoratori di Metro Catania 2013, un'azienda contratualizzata da Tecnis, da mesi non percepiscono lo stipendio, sentiamo il servizio di Grazia Sicari. Hanno protestato sui binari della ferrovia Circo Metnea, una trentina di lavoratori della Metro Catania 2013, azienda contratualizzata da Tecnis per i lavori del cantiere metropolitano a Borgonesima, hanno così richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica. La protesta ha avuto il via perché nonostante gli accordi ufficiali, i lavoratori devono ancora essere saldati gli stipendi di settembre-ottobre e salari sino al 9 novembre, nonché la cassa edile da luglio sino a ottobre. I salari non sono stati saldati, nonostante le somme del SAL, lo stato di avanzamento dei lavori, siano già stati consegnati alla Metro. Anche oggi siamo a fianco dei lavoratori e anche in questa occasione non possiamo che ribadire che gli accordi, in questo caso confermati anche dal sindaco di Catania, devono essere rispettati, dichiarano il segretario generale della filia Cigiele di Catania, Giovanni Pistorio, e il segretario provinciale Carmelo Restifo. E andiamo a Mister Bianco, dove un'intera città, assieme alla Federazione Italiana Sommelier, si mobilita per riportare alla luce l'antica Chiesa Madre, sepolta nel 1669 da un'eruzione dell'Etna. Sentiamo. Per noi è un regalo che ci è venuto senza che noi ne siamo degni, perché anche la sovrintendenza, quando si è trovata dinnanzi a questi ritrovamenti, hanno detto che veramente valeva la pena approfondire e ricevere altre sovvenzioni. Praticamente noi siamo arrivati qui con la terza sovvenzione per questi lavori. Noi dedicheremo un anno intero, quindi 365 giorni, ad una causa che riteniamo particolarmente importante, quella di far conoscere questo luogo e questi scavi archeologici e quella di contribuire anche al loro completamento e alla possibilità di renderli fruibili al grande pubblico. Bene, era questo l'ultimo servizio. Continuate a seguirci sui nostri giornali online di riferimento e non mancate l'appuntamento con la prossima edizione. Buon proseguimento. Maurizio Gasparri sbentisce categoricamente di avere scambiato Jim Morrison per un ladro slavo, almeno così ha dichiarato ad un semaforo, scambiandolo per una telecamera. Sposami. Dal 16 al 24 gennaio alle Ciminiere di Catania Sposami, il più grande salone nazionale del matrimonio. 200 stand, eventi, premi e spettacolari sfilati per lo sposo e la sposa. Sposami. Dal 16 al 24 gennaio, dal lunedì a venerdì 16.21. sabato e domenica, 10.22. Sposami, alle Ciminiere di Catania. È un'organizzazione Expo.